Questa è la chicca finale che ho lasciato per ultimo, perché potrebbe essere una truffa. Ciao, sono Daniele per gli Amici Suvri e dopo due anni e mezzo torno a un fantastico unboxing di oggetti che ho comprato su Vinted con annessa Flip Challenge. Aspettate però prima di continuare con questo fantastico contenuto che vi lascerà sicuramente a bocca aperta, ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto cliccare sulla campanella per non perdere neanche uno dei video che escono tutti i giorni nei quali parlo di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Sono veramente contento di portare un nuovo unboxing di oggetti che ho comprato su Vinted sfruttando una promo molto interessante di cui vi ho parlato anche su Instagram se vi ricordate qualche tempo fa. Praticamente la piattaforma ha messo per un po' la spedizione a 1,99€ utilizzando poste italiane. Ho acquistato degli oggetti molto specifici e li ho presi per fare una Flip Challenge. In alcuni video passati tanti mi hanno chiesto di fare una Flip Challenge nei commenti e io ho pensato perché non accontentare questi ragazzi che vogliono vedere come riesco a comprare degli oggetti a molto poco e rivenderli a tanto di più. Questa Flip Challenge mi è sembrata un'ottima alternativa alla serie L'Affare del Mese che purtroppo non riesco più a fare proprio per problemi di tempistica anche nel vendere gli oggetti online. Tra consulenze, portare tanti contenuti sul canale, provare sempre nuove applicazioni e quant'altro il tempo è quello che è e non riesco più a portare quella serie che mi piaceva tantissimo ma sicuramente tornerà. Questa è un'alternativa che come avete capito è il video adesso di unboxing dopodiché vi porterò degli aggiornamenti con un video conclusivo a fine anno per vedere a quanto sarò riuscito effettivamente a vendere questi oggetti. Ovviamente io spero al più alto valore possibile. Io direi però, bando alle ciance, che quest'intro è durata anche troppo e iniziamo a spacchettare. Questo dalla pila è il primo che ho preso, ho anche un taglierino per aiutarmi nell'unboxing ma direi che questo viene via a mano facilmente. Mi piace anche l'impacchettamento. Primi due giochi, Wii Sport Resort e questo che è Wii Sport normale. Direi che c'è tutto, il gioco è ben tenuto. Direi che anche questo c'è e oltretutto mi fa piacere che mi ha regalato anche una custodina di plastica che non fa mai male, tanto lo metterò nel cartone. Questi due insieme pagati 6,98 rivendibili a 20-25 euro. Secondo pacchettino con una busta di Shane. Vabbè, vediamo cosa c'è dentro. Ok, è una busta di Shane recuperato poi con un qualcosa di pluriball. Non fatto benissimo ma ci sta. Qui abbiamo Harry Potter. Fantastico, gli doni della morte parte 1. Bello, completo. Molto, molto ben tenuto. Questo pagato 7,94 rivendibile tra i 20 e i 25 euro. Altro pacchettino piccolo e quadratino. Meglio di un chilurgo. Si vede che ha riciclato carta Amazon ma è difficile da aprire. Ecco qua, abbiamo Mario Kart e Wii Sports. Direi alquanto maltenuto ma lo faccio lucidare. Direi molto maltenuto ma lo faccio lucidare. Prima li proverò perché mi convincono poco. Entrambi pagati 11,09 euro rivendibili a una trentina di euro se funzionano. Questo pacchettino che lascia alquanto desiderare, cioè va bene recuperare il cartone per carità, però il nastro questo qui isolante costa un fottio ed è veramente sprecato. Io avrei messo un altro scotch. Comunque, vabbè, c'era qua sopra l'indirizzo, l'ho solo tolto così evito di censurare. Meno editing e facciamo prima. Che fatica, ha tolto tutto l'involucro. Protetti ancora da carta, non si sa perché, con altro nastro isolante. Wii Sports e mafia per PlayStation 2. Onestamente presi insieme, giusto perché conveniva la spedizione a prenderli insieme, mi seccava pagare solo per lui. Vediamo un po', molto ben tenuto, solo un po' gli angolini che sono... Però, anche questo da lucidare. Mafia è un po' una sfida, se dentro a mappa e anche libretto siamo a cavallo. Libretto check e mappa pure! Ci sta? Due righette solo, un po' sporchino, si pulisce. Pagati 8,36 euro rivendibili a 20-25 euro. Questa è una bustina, vabbè, dall'altra parte c'è l'indirizzo che se stacco penso di far danno. Quindi apriamola così. Molto bene! Wii Sports e Wii Sport Resort. Alquanto rigato, messo da schifo, ma meglio degli altri. Questi pagati 7,94, anche qui rivendibili intorno ai 25 euro, se tutto è ok, altrimenti saranno problemi per il venditore. Questo pacchettino molto interessante, leggermente fragile, fatto così. Io avrei messo un gioco sopra l'altro, dovrebbero essere due che ha messo così. Vediamo. Ho paura di romperli. Ok, no, le ha messi uno sopra l'altro, ma c'è un sacco di posto inutile che bastava riempire con del giornale. Wii Sports e Wii Sport Resort, di nuovo, ne ho presi un sacco, però stavolta cartonato e con la custodia. Molto bene qua, Wii Sports Resort, completo di tutto. Allora, direi che va bene, ma ci sono un paio di macchie che mi convincono poco. Via di mezzo. Qui li ho pagati 8,94, rivendibili sempre a 25 euro. Questa è la chicca finale che ho lasciato per ultimo, perché potrebbe essere una truffa. Guardate che schifo di pacco, con una velina e del nastro di carta, che non si usa assolutamente mai per fare queste spedizioni. Qui ci dovrebbero essere un bel po' di giochi interessanti e vale un sacco di soldi, ma il venditore ha un sacco di recensioni negative. Oltretutto, qua ho paura di rompere tutto, quindi si apre rigorosamente a mano. I giochi sembrano esserci tutti, ma controlliamo. Questi, come potete leggere, sono i titoli che ci dovrebbero essere dentro. Inazuma Eleven Counter Striker... C'è ridotto una m***a. Batman 2, ridotto uno schifo. Wii Play Motion, peggio che andar di notte. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, temo sia non funzionante. Super Mario Bros, che schifo. Mario Sonic ai giochi delle Olimpiadi Invernali, questo meglio non commentare. Batman il videogioco, oh per carità. Tutti questi presi a poco più di 30€. Il problema qua riguarda le condizioni, perché sarebbero rivendibili a 100-110€, ma così può darsi che non ne funzioni neanche uno. Quindi immediatamente prova e si vede. Potenziale di incasso di tutta questa roba qua siamo intorno ai 250€, ma ce la farò effettivamente? Funzioneranno o non funzioneranno poi tutti questi giochi? Bisogna fare un po' di test, ma appuntamento alla prossima puntata. Appuntamento diciamo ad adesso, mentre stavo montando il video mi sono accorto che posso darvi un aggiornamento, perché Vinted per fortuna mi ha risposto in tempo. Questi li ho fatti pulire perché soprattutto Dragon Ball non funzionava proprio e infatti ho aperto un reclamo segnalando questo problema e Vinted mi ha rimborsato. Quindi effettivamente per questi giochi qua non ho pagato assolutamente nulla, ma li potrò rivendere. Adesso sono tornati dalla pulizia, quindi testerò ovviamente che funzioni di nuovo tutto quanto. Gli altri li ho testati, funzionano. E purtroppo qualcuno è un po' rigato, ma vedrò eventualmente di farlo anche pulire prima di spedirlo o di consegnarlo. Nonostante la piccola brutta avventura, quindi direi che si è concluso tutto per il meglio. Vi terrò aggiornati, ma ho preso anche altre cose su Subito e Wallapop per fare una challenge a parte. Quindi non perdetevi i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti.